ciao a tutti io sono l'ania e bentornati in questo nuovissimo video oggi parliamo nuovamente degli audiolibri non sono qui per consigliarvi un servizio specifico dire quale applicazione appunto servizio di audiolibri sia migliore ma parlarvi della mia esperienza e una mia opinione su gli audiolibri assolutamente discutibile infatti vi invito a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate e condividere se volete la vostra esperienza per quanto riguarda appunto gli audiolibri io ho iniziato molto tardi a ascoltare i libri la primissima volta è stato intorno al 2014 2015 quando era uscito l'audiolibro delle due torri di riccardo ricobelli io ho amato quell'audiolibro credo che resterà sempre il mio preferito e sempre il mio cuore però è stato in quell'anno in quel periodo un caso isolato non ho più mai ascoltato audiolibri da quel periodo fino a l'anno scorso infatti dal 2020 ho ripreso ad ascoltare i libri e mi ci sono trovata benissimo perché ricordo anche la primissima volta che ho ascoltato un audiolibro io avevo letto appunto le due torri con una facilità che io tipo neanche potevo immaginarmela peccato che poi di riccardo esiste solamente l'audiolibro delle due torri peccato però esiste ancora esiste ancora e se volete godervi le due torri con riccardo quindi ho scoperto tantissimi altri audiolibri tantissime altre storie e ho letto infatti o meno li ho ascoltato libri che non ho fisicamente e neanche sul kindle grazie agli audiolibri su youtube quelli gratuiti che si possono condividere in realtà non si potrebbero condividere non tutti almeno ho ascoltato sotto natale per esempio canto di natale che io non avevo mai letto in tutta la mia vita scenomi e quindi per fortuna esiste infatti vi consiglio il canale della loconna della tormenta di andrea su nelle schede dove trovate tantissimi altri audiolibri vi consiglio anche sempre sulle schede o anche giù nell'infobox vediamo un po come riesco vi lascio il link diciamo al canale di andrea di riccardo e anche di un altro canale di cui non so pronunciare assolutamente il nome però lo trovate giù nell'infobox nelle schede io mi sono trovata benissimo con gli audiolibri perché c'è proprio un'atmosfera molto bella e mi sono immedesimata ancora di più nella storia con i personaggi con l'ambientazione bellissimo perché appunto ripeto c'è questa musica di sottofondo questi effetti sonori che io adoro veramente adoro e secondo me potrebbero creare un'atmosfera ancora più meravigliosa di quando si legge naturalmente non tutti sono abituati a non tutti piace e a me tantissimo e per quanto mi riguarda accelera la lettura perché io ascolto anche quando magari ho da fare sto magari al computer sto cucinando o non so sono a passeggio e voglio ascoltare invece della musica un audiolibro quindi sfrutto al meglio tutta la mia giornata appunto magari sto facendo altro non posso tenere il libro in mano lo ascolto è bellissimo io vi invito a provare ovviamente vi invito a provare e un po' anche abituarvi perché ci vuole un po' di abitudine io appunto ho avuto un periodo in cui non ho ascoltato proprio nessuno di un libro perché per me si steva solo la audiolibro delle due torre di riccardo e quindi figurarsi però dicevo che a non tutti piace io conosco persone che mi hanno detto se non ricordo mare milena se stai ascoltando confermami altrimenti faccio una gaffa di quelle enormi mi sembra che lei mi abbia detto una volta che non si trova bene con gli audiolibri non ricordo il motivo perdonami se me l'hai detto tu fammi sapere insomma se sei tu e bei motivi per cui non ti piacciono gli audiolibri insomma io li uso spesso quando non ho tempo di stare lì con il libro in mano adesso ho finito gli esami o qualche giorno di stacco tra appunto gli esami e le lezioni quindi a voglia il tempo ci sta però ora che riprendono le lezioni magari ho un po' meno tempo per leggere quindi per accelerarmi un po' e per appunto entrare ancora di più nella storia ascolto gli audiolibri se volete sapere qualcosa in più degli audiolibri io vi lascio qualche video su nelle schede il mio e mi sembra anche quello di legna zodiaco perché ricordo che il primo video che avevo fatto a riguardo l'avevo fatto appunto perché avevo visto il video di legna zodiaco se volete sapere un po' di più su come la penso io come magari la pensa anche qualcun altro io spero che questo video vi sia piaciuto in tal caso lasciato un like fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Milena mi raccomando confermami o smentiscimi su quello che ho detto poco fa se guarderai questo video e iscriviti al canale se non ancora l'avete fatto attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao